Sarebbe stata picchiata selvaggiamente prima di essere colpita con violenza con un oggetto arrotondato che le ha fracassato la testa causandone la morte. Katia Dello Marino, la quarantenne biturgenze trovata senza vita sul greto della torrente Afra a pochi minuti da Sansepolcro, avrebbe lottato con tutte le sue forze contro il suo assassino nel tentativo di sottrarsi a quel drammatico destino. Sono le indiscrezioni, le prime, che emergono sugli esiti dell'autopsia eseguita dal dottor Marco Di Paolo, professore presso l'Università di Pisa e dalla dottoressa Isabella Spinetti, biologa e genetista. L'esame autoptico avrebbe evidenziato la causa del decesso, ovvero le numerose ferite riportate soprattutto alla nuca. Katia potrebbe essere stata colpita con un oggetto simile ad un martello e non dunque da una piccozza o da un'altra pietra. Sul corpo della donna non sarebbero stati invece ritrovati segni di violenza sessuale o di rapporti consumati nelle ore precedenti alla sua morte, mentre i numerosi graffi riportati sul corpo, la costola rotta e i lividi dimostrerebbero una collutazione con l'omicida. L'assassino di Katia potrebbe quindi aver lasciato involontariamente il proprio DNA sul corpo della donna nel corso proprio di questa collutazione. Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti adesso ci sono i tabulati telefonici della donna ma anche la sua agenda all'interno della quale la giovane teneva dei foglietti di carta con alcuni numeri telefonici.